Il campionato da imbattuti, sì, non è facile, non era facile vincere tutte le partite, tra l'altro abbiamo vinto 17 gare su 17, quindi per noi non è stato semplice. Ci aspettavamo sinceramente di fare un gran campionato, però come sappiamo vincere non è semplice, quindi l'emozione è tanta e ci ha aiutato tante cose l'ambiente e la squadra, nel senso che è una squadra di un mix di giovani e giocatori più esperti, quindi anche i giocatori più esperti hanno dato una mano ai più piccoli per portare a casa la vittoria del campionato. Che stagione è stata? È stata una stagione da un lato difficile, nel senso che ci siamo approcciati per la prima volta ad avere una prima squadra. Noi eravamo partiti durante il Covid facendo mini volley e gli leander con i bambini, poi ad agosto dell'anno scorso abbiamo deciso di puntare anche sulla prima squadra, in quanto da Trivalda, oltre alla femminile, non manca da anni una squadra di pallavolo maschile che rappresenti il paese. Quindi non è stato semplice anche perché, essendo la prima volta, mettere insieme tante teste, tanti ragazzi, tra l'altro di età diverse, è stato un bel percorso comunque in ogni caso. Adesso c'è la Serie D? Sì, adesso sì, penso che a ottobre inizia la Serie D. Ovviamente io e mio fratello, che siamo in società, già siamo proiettati verso l'anno che verrà. Sappiamo che è molto più complicato della prima divisione, in quanto il campionato è regionale, quindi affronteremo comunque squadre del Napoletano, Casertano, Benementano e della provincia di Salerno. Quindi sicuro si aspetta un campionato molto più difficile. Certo, il nostro obiettivo sicuramente è quello di rappresentare un giorno il nostro paese, che è la Trivalda. Sappiamo che non è per nulla semplice, in quanto il percorso è veramente lungo. Cercheremo comunque per la Serie D di fare un'ottima squadra. Cercheremo anche di lottare per un campionato, perché no? Non fissiamo obiettivi al momento, in quanto comunque non sappiamo ancora le altre squadre come siano, però comunque cercheremo di dare il meglio di noi e un giorno di puntare anche più in noi.